Ciao a tutti, oggi prepareremo della pasta di sale, un materiale simile alla plastilina ma realizzato con elementi che abbiamo in casa, cioè farina, un bicchiere, sale, un bicchiere, acqua, circa tre quarti di bicchiere, a cui ho aggiunto appunto del colorante rosso che avevo in casa, e iniziamo ad impastare bene. Impastiamo per circa un paio di minuti, ecco, questo è ciò che otteniamo dopo un paio di minuti. Possiamo dare ai bambini un mattarello, delle formine con cui realizzare ciò che vogliono. Io oggi ho pensato di realizzare un coronavirus, allora faccio una pallina, gli faccio tante punte, ecco qua, già ne ho una pronta e adesso che ci faccio, la spiaccico sul tavolo, così lo distruggo. La pasta di sale la potete conservare in friorifero, a botta nella pellicola, oppure realizzare qualunque cosa voi vogliate e farla asciugare all'aria. Testiamo a casa ancora qualche giorno, ma poi ci rivedremo al nido e ogni bimbo potrà mostrare i suoi capolavori, perché ricordiamo, andrà tutto bene!